E allora sono partite finale, questa è la prima finale, 10.000 metri eliminazione, allora allieve a meno 48, campana a 47 iniziano le eliminazioni e poi ricordatevi gli ultimi tre giri sempre eliminazione. Avremo sostanzialmente l'ultimo giro con le tre atlete che rimarranno in gara, quindi le atlete del podio. E tanto è Derriou che si è portata in testa, ora Federici. Federici in testa, poi Giannarelli. All'esterno, 481. Ancora Federici, Presti, Derriou. 4-7-7 eliminata, 4-7-7 eliminata. E ancora Federici, Presti, Derriou, Giannarelli. 4-7-4 eliminata. Ancora Federici, Presti, Derriou. In testa poi vedo. Al passaggio di meno 44, suono della campana, entriamo nel giro che elimina. Elimination. E ancora Federici, Orla, si porta in prima posizione. 48, fermarsi, eliminata. 320, prima ammunizione. Ancora Federici, poi Presti, prendono la campana di meno 42. Poi Derriou. 320, entrata in diffida perché aveva già una munizione. Ora Federici, ancora il gruppo è compatto, è fuolto. 59, eliminata. Federici, Derriou. 59, fermarsi. All'esterno è Presti, che si porta in prima posizione. Federici, Derriou, Presti. 371, eliminata. 3-7-1. Romagnoli, che si era portata in testa, ma solo per un attimo perché Federici rilancia l'azione. Federici, Presti, ora. 364, fermarsi. Ora Derriou con Montico, che si porta in seconda ruota. era il passaggio di meno 36. Il suono della campana. Siamo con l'eliminazione in corso. Dunque ancora a compasso. Numero 3. Numero 3. Fermarsi. 318, entra in diffida. E sono passate almeno 34. La gara è ancora molto, molto, molto lunga. Romagnoli ogni tanto si affaccia in testa, ma poi Federici e Presti decidono di mettere il cappello su questa gara. 172. E allora Federici, 172, fermarsi. Derriou, Presti, Montico. Sicuramente le atlete protagoniste di questa gara. Andiamo al passaggio di meno 32, ora l'eliminazione in corso. E ancora Federici davanti a Derriou, poi Presti, poi Montico, poi... Vedona. Vieni ammonita la numero 21. E non siamo nemmeno a metà gara, eh? Siamo al passaggio di meno 30, quindi ancora 6.000 metri per loro. Federici, Derriou, ora è Presti, si porta prima posizione, ma... Questo momento è uno scambio continuo di posizioni, si altera... 1, 6, 4, fermarsi. Eccole al passaggio di meno 28. Federici, Derriou, Presti, Montico, Beton, Romagnoli, queste... Nelle prime posizioni... 448 eliminati. 448 per Massi. Ricordo che con questa gara andiamo ad assegnare il primo titolo italiano. Ed eccoci alla campana di meno 26, quindi quando le atlete transiteranno sul traguardo... Saremo a metà gara e siamo in questo momento con l'eliminazione in corso... 406 eliminata... 406 eliminata... Ed è Romagnoli che deve fermarsi... Mentre Federici, Derriou, Presti, Montico, Beton, hanno guadagnato lì le prime posizioni... Si alternano ma... Chi comincia a essere... Faticoso andare più avanti con loro anche biondi... Faccio in te e poi... Via via tutte le altre... Al passaggio... Al passaggio... 102... 102 eliminata... 102... 102 deve fermarsi... La numero 102... La numero 102... 102... Ok... Intanto meno 22, Giulia Presti... Davanti a Federici... Anastasia Federici... Teresa Derriou... 365... Siria... Montico... Via via... Tutte le altre... E ora qua... La gara incomincia a farsi veramente dura... Siamo agli ultimi 4 chilometri... Attenzione... Contatto di gara... Tutto fortuito... Ed è Bedon davanti a Presti... Che... La fianca in curva... Vedo un Presti... Federici... Derriou... Montico... 210 eliminata... 210 fermata... Con Federici che rilancia l'azione... 210 fermata... Si lanciano tutte le altre... Al passaggio... Meno 18... Siamo nel giro che elimina... Federici... Presti... Derriou... Montico... Monti... All'interno... 166 fermata... Eliminata... 176... Eliminata... Vila... Vila... Ancora Federici... Da un cambio passo... Allunga il gruppo... Vila... Benerici... Derriou... Federici... Trastini... Montico... Poi... Biondi... 338... 338... Eliminata... 338... Bellusco... E intanto... Saremo al passaggio dei meno 14... Ci avviciniamo... Ai meno 10... E lì... Vedremo se... Ci sarà l'azione da parte di qualcuno... Un cambio ritmo... Anche se sono ancora tanti i giri... La fatica che stanno facendo questi atleti è notevole... Ora... Federici... In testa... 320... Eliminata... Ora... Biondi... Si è portata in testa... Poi... Federici... Poi... Presti... Poi... Derriou... Poi... Montico... E siamo ai meno 12... Eliminazione... In corso... Sono stati a me... Due atlete... 3... 6... 8... 10... Sono rimasti 10... Ora va a chiudere il cap... Marta Biscuola... Il patinatore Spine... 207... Ed è l'atleta della mensana che deve fermarsi... 3... 6... 9... Sono rimasti 9... Quindi sono 10... 10... Ed è Federici... Che prende la campana dei meno 10... Eliminazione in corso... Federici... Presti... Perio... Montico... Biondi... 202... 202... Fermarsi... 202... Fermarsi... E intanto al passaggio di meno 8... Giulia Presti si porta in testa al gruppo... All'esterno Anastasia Federici... Calasca Federici... Presti... De Rio... Montico... Poi... Fedon... Poi Piondi... Viene eliminato il numero 154... Ed eccole che si ripresentano... Sul rettilineo... Sul rettilineo... E intanto al passaggio con l'eliminazione in corso... E si eliminerà anche sul 3-2-1 sempre eliminazione... 3-2-1 sempre eliminazione... Ricordatevelo... Il numero 21... Bedonna... Deve fermarsi... E al passaggio di meno 4... Federici... Che lancia l'azione... Seguita da Presti... Poi di Rio... Prendono immagine... Rispetto... Alle altre... 118... E eliminata... Reone a Piondi... Che si porta in testa... Profitando... Capito un attimo... E si sono guardate... Per capire chi era... Che rilanciava l'azione... 251... 251... Eliminata... Ricordo che sono eliminazioni... Sempre... E in ultimi tre giri... 251... Fermarsi... 251... Biondi... Fermarsi... Ed è... Presti... Che lancia la volata dell'ultimo giro... Presti... Ferri... Ferri... Federici... Questo è l'ultimo... E la... Diocchio Presti... E la intanto... Giulia Presti... Campionessa... Italiana... Tavartia... Ferri... E poi... Federici... E poi...